Ciao, proprio questi giorni stavo pensando a come poter unire le mie più due grandi passioni, cioè l'attività fisica e il gaming. Quindi stavo lì a pensare sul come dire, cosa poter fare, cosa poter far fare. Quindi mi sono messo lì un po' a scavare nel web, magari andare a trovare determinati studi che possano andare a sostenere la mia tesi, cioè che l'attività fisica, anche con una certa regolarità e facendo degli esercizi abbastanza specifici, possono effettivamente andare a migliorare la performance di chi gioca. Perché per fortuna tante altre persone nel mondo hanno pensato a questa cosa molto prima di me, quindi hanno messo sul campo degli studi che poi sono stati testati e ritestati e comprovati, che effettivamente per chi è abituato a stare molto davanti al computer o pro player o persone appassionate e basta come me che giocano per divertimento, con l'ausilio di una regolare attività fisica, possono migliorare non di poco la loro performance. Quindi sono qui oggi con questo primo video dove vi illustrerò una brevissima routine, stiamo parlando di un quarto d'ora di lavoro, venti minuti di lavoro, che potete provare e magari farmi sapere come vi siete trovati, con esercizi abbastanza mirati in quanto andremo a iniziare la nostra routine con dei esercizi di riscaldamento generale, quindi per tutta la parte superiore del corpo, in specie al modo collo, spalle e polsi, che sono ovviamente i più soggetti a sollecitazione durante magari le sessioni di gaming. Poi andremo ad affrontare due esercizi per la possibilità delle scapole per l'apertura del petto, che è proprio uno standard che tutti quelli che stanno al computer sono gobbi, quindi noi andremo a beccare proprio quei muscoli che sono responsabili dell'apertura delle spalle. Poi, non meno importante, andremo a toccare anche gli esercizi di potenziamento per gli addominali, quindi per evitare anche dei potenziali mal di schiena, che ovviamente hanno una migliaia di fattori, ma avere un addome forte sicuramente aiuta, e ovviamente anche degli esercizi di coordinazione dove i riflessi andranno a svolgere un ruolo fondamentale. Su qualsiasi gioco, praticamente, i riflessi sono assolutamente fondamentali, quindi non potevo non proporre degli esercizi anche per quello. Vi ripeto, sono dei movimenti molto semplici, che però sono efficaci se fatti con criterio. Quindi cambio di outfit e tutti da allenarci. Ok raga, allora iniziamo subito con riscaldare tutta la parte alta del corpo, con delle pressioni laterali avanti e dietro della testa, seguite da delle rotazioni ovviamente in tutte e due i versi. Questo piccolo circuito può anche essere svolto per due giri, se volete proprio essere sicuri di riscaldarvi bene. Andiamo poi a ruotare i polsi per preparare bene l'avambraccio, in quanto è una parte molto sollecitata nel gaming. Scaldiamo molto bene anche le spalle, ruotandole avanti e dietro per 4 o 5 volte in tutti e due versi, proseguendo con dei piccoli cerchietti a braccio teso. Sempre 4 o 5 movimenti in ogni verso. Ci spostiamo poi sul ripiano, una scrivania, per andare a fare degli sbilanciamenti avanti e indietro sulle mani, iniziando con le dita rivolte in avanti e mi raccomando non forzate troppo quando vi sbilanciate in avanti e, altra cosa fondamentale, non staccate mai il palmo della mano dal sostegno, dal ripiano. Stesso principio vale sbilanciandosi indietro con le mani messe esattamente nel verso opposto della prima posizione. Facciamo circa 5 o 6 sbilanciamenti avanti e indietro da ripetere per due giri. Ora che siamo caldi ci mettiamo a terra, pancia in giù, fondamentale avere un sostegno per la fronte per stare rilassati con il collo. Teniamo le scapole attaccate e le spalle basse e andiamo a sollevare i palmi delle mani tenendo le braccia tese verso fuori per circa 8 ripetizioni. Stesso principio vale con le braccia a lungo i fianchi e i palmi delle mani verso il soffitto. Questi esercizi vanno svolti per tre giri. Andiamo ad allenare l'addome con questa posizione isometrica dove sarà fondamentale schiacciare la zona lombare a terra. Nel video vi faccio vedere anche una variante con le braccia sopra la testa che risulterà più difficile. Facciamo 15 secondi per tre giri. Passiamo alla parte più divertente. Con una pallina iniziamo a lanciarla e riprenderla con la stessa mano contro un muro. Potete ovviamente variare la difficoltà aumentando la forza con la quale la lanciate. Fate questo esercizio per un minuto circa per tre volte ovviamente alternando le mani. Il secondo esercizio mirato alla coordinazione riflessi consiste nel lanciare la pallina davanti a voi circa a metà tra i vostri piedi e riprenderla con la mano opposta. Per rendere questo esercizio più complesso basterà lanciare la pallina più forte ogni volta. Anche qua facciamo un minuto per tre giri. Ultimo ma non meno importante lo stretching. Iniziamo con l'allungamento di tutto l'avambraccio tramite gli ausili di un muro. Più le mani saranno posizionate alte e più l'esercizio sarà complesso. Iniziate con un grado di tensione medio per poi piano piano cercare di renderlo sempre più complicato. Teniamo la posizione per circa 30 secondi per due giri. Ultima posizione andiamo ad allungare il collo tenendo in flessione laterale la testa aiutandoci con la mano. Stiamo in ogni posizione per 30 secondi da ripetere per due giri. Ragazzi grazie mille per l'attenzione e se volete essere seguiti da me troverete tutti i miei contatti in descrizione.